Non richiamiamo. Allora, secondo annuncio, problemi d'amore, linea rossa. Attenzione, quando parliamo di secondo annuncio, tieni tesoro, linea rossa, problemi d'amore, l'annuncio è il seguente. Problemi d'amore, punto interrogativo, il professor Welinaus ti svelerà gratis il tuo futuro. Va bene? Attenzione, da questo momento possiamo svelare il futuro attraverso questa linea rossa. Nell'attesa, signori e signori, è arrivato il grande momento dell'esibizione, quiz musicale in premio, Flavia Vento! Flavia Vento! Ciao! Come va? Bene, te? Bene, bene. Allora, Flavia Vento, lo possiamo dire, ogni tanto ci regala una barzetta scritta da lei, mi auguro, vero? Cosa hai preparato? Una barzelletta carina. Sì, prego, veloce, forza, leggiamo la barzelletta. Allora, c'è un aquilotto che vola, vola, vola. Un falco, un falco. Sì, scusa, si dimentica la cosa, l'aquilotto. C'è un falco che vola, vola, vola e vede un topolino piccolino. Allora sta andando impicchiata. È bellissima, eh? È bellissima, eh? Lo vede, fa oddio, no, l'ho già letto. Ecco, bellissima, questa qui la barzelletta. Cosa sai fare ancora? Le imitazioni. Le imitazioni, vediamo, vai. Che cos'è questo? Cos'è? Che cos'è? Un pesce rosso. Perché rosso? Scusa, il pesce è la cosa? Perché sono tutta rossa. Ecco. E poi questo? Sì, parla col microfono. Questo? Questo è un pesce ciccio, pesce palla. Bravo. E questo è il pezzo forte. Che cos'è questo? Un pesce deficiente? No? No, il pesce fritto. Eh, qui c'è pure il pesce sega, guarda. Ma io dico, Matteo, ma io... Il pesce fritto. Eh? Il pesce fritto. Mannaggia la miseria. Canzoncina, veloce, forza. Forza, canzoncina ce l'hai? Sì, quella di Prince. Vai. Devo... devo cantare. No. Rifai il pesce fritto. Forza, che abbiamo i tempi veloci. Forza. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Un battito del male, se no, la canta tutta. Bravo. In your kiss. Oh, brava, Flavento.